Allerta per i livelli raggiunti dai fiumi Piomba e Saline tra Silvia e Città Sant'Angelo. Le piogge delle ultime ore hanno creato disagi sulla costa. Qualche allagamento è la notizia che il maltempo si protrarrà ancora per le prossime 36 ore. Un'attività di monitoraggio è in corso già dalle prime ore della mattinata. Si tratta della perturbazione denominata Burian, proveniente dalla Siberia e che dalla scorsa settimana ha investito l'Italia e che in queste ore ha paralizzato il nord con forti nevicate. In Abruzzo la neve ha raggiunto i 400 metri. Disagi registrati all'Aquila con l'impossibilità di chiudere le scuole visto lo scarso preavviso. Erano le 7 del mattino. A Montesilvano invece una frana ha interessato la zona dei colli e la preoccupazione ora è quella di tenere sotto controllo il fenomeno visto il proseguire delle piogge.